Foggia TV Sottratto il patrimonio, 50 milioni di euro, il re del vino, l'imprenditore di Ravenna, ritenuto vicino alla criminalità foggiana, fu coinvolto nell'operazione Baccus del 2012. Maxi sequestro di merce con marchi falsi, sottratti 46 mila articoli ai commercianti, capi in pelle, calzature, occhiali e bigiotteria, tutto falso. L'onore della sconfitta di Franco Metta Cerignola, l'avvocato raduna il suo popolo e si proclama sindaco Umbra. La battaglia continua. Rifiuti davanti al comune di Foggia, discarica nel cuore della città, scene sotto gli occhi dei commissari. Salvaguardia della mucca podolica, contributi a fondo perduto del Parco Nazionale del Gargano, prosegue l'azione di tutela dell'ente. Un altro derby, domenica allo Zaccaria, arriva il Taranto, rossoneri chiamati alla continuità, gara vietata ai tifosi ospiti. I soldi li ha fatti con la produzione di vino, un patrimonio di circa 50 milioni di euro, ma adesso dovrà restituire tutto allo Stato. L'imprenditore del vino è di Ravenna, ma è ritenuto vicino alla criminalità organizzata foggiana. Sentiamo il servizio di apertura. Aveva instaurato un giro d'affari con la criminalità organizzata foggiana. Il reato è stato contestato dal Tribunale di Bologna ad un imprenditore del vino operante nel Ravennate, per cui la direzione investigativa antimafia ha confiscato oltre 50 milioni di euro di beni. Così Vincenzo II Melandri si è visto sequestrare partecipazioni societarie, 9 compendi aziendali attivi nel settore vitibinicolo, 74 beni immobili, 6 automezzi d'epoca e 3 rapporti bancari e assicurativi. L'imprenditore rimase coinvolto nell'operazione Baccus del Lontano, 11 giugno 2012, coordinata dalla DDA di Bari, in cui collaborò anche la questura di Foggia e fu condannato a 4 anni di reclusione per reati di tipo fiscale e ad altri 9 anni e mezzo dalla procura di Ravenna per un'operazione denominata Malavigna, in cui li fu contestata l'associazione a delinquere e il riciclaggio. In Baccus fu constatata l'infiltrazione ramificata delle organizzazioni malavitose foggiane nel settore vitivinicolo, anche nel nord Italia, attraverso l'azienda del Melandri. Il sequestro dei beni è arrivato al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna, all'indomani di un altro sequestro da parte del Tribunale di Bologna, che aveva constatato una sproporzione evidente tra i redditi dichiarati dall'imprenditore e i beni in sua disponibilità personale e del nucleo familiare. Melandri è stato ritenuto il promotore e l'organizzatore di un'associazione criminale finalizzata alle frodi fiscali in danno all'erario e alla comunità europea e con la sua azienda aveva innescato un giro di fatture fasulle con operazioni inesistenti, tutti fatti che hanno portato alla maxiconfisca di 50 milioni di euro. Abbiamo aperto con la cronaca continuiamo con la cronaca gli investigatori cercano le origini dell'incendio che questa mattina si è sviluppato in un centro di autodemolizione alla periferia di San Severo non tralasciano gli inquirenti alcuna pista investigativa in più chiederanno la verifica della qualità dell'aria perché la densità della nube di fumo sprigionatasi dal rugo è stata avvertita dall'intera popolazione. Un solco nero di ampie dimensioni vedete le immagini nel cielo di San Severo questa mattina partito dal centro di autodemolizione sulla statale 16. I vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore e l'incendio, secondo le prime indagini sarebbe partito da alcuni rifiuti in plastica e dall'olio dei pezzi di ricambi di veicoli. Operazione delle fiamme gialle contro il fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo commerciale sequestrati 46.000 articoli contraffatti denunciate 79 persone capi di abbigliamento in pelle calzature sportive occhiali bigiotteria tutto con marchi contraffatti e con la falsa indicazione del made in Italy. L'attività di contrasto chi ha interessato principalmente venditori in forma ambulante ha consentito anche di individuare 30 persone prive di autorizzazioni. Ancora cronaca c'è stata una raffica di perquisizioni nei comuni di San Severo e Tore Maggiore dopo gli episodi di violenza registrati nei mesi estivi. Nel corso dell'operazione le forze dell'ordine hanno catturato un giovane spacciatore ricercato. Il latitante è stato rintracciato in via Mario Carli all'interno dell'abitazione di un suo sodale attualmente in carcere. E adesso l'attesa per l'arrivo della Presidente della Repubblica Mattarella qui a Foggia lunedì prossimo un incontro e una visita richiesta in modo particolare dalla Università di Foggia. Mattarella sarà qui a Foggia in mattinata e naturalmente la città sarà blindata. Ma attenzione non facciamo vedere al Presidente della Repubblica in che condizioni si trovano le strade di Foggia soprattutto il centro perché adesso noi vi facciamo vedere e le immagini ce le ha inviate un cittadino innamorato della sua città che è molto attento alla tutela e all'ambiente. Sono immagini che si riferiscono registrati in corso Garibaldi beh c'è una discarica abusiva insomma se arriva da quelle parti il Presidente della Repubblica vede questo spettacolo indecente non è possibile e tutto si registra poi sotto gli occhi dei commissari e a pochi passi dalla Prefettura. Scarpe vecchi mobili cassette della frutta in disuso cartoni pieni di oggetti inutilizzati sedi di plastica sembrerebbe la lista delle cose che potreste trovare in un mercatino dell'usato in realtà è tutto quello che si vede a due passi da Palazzo di Città accanto ai cassonetti dell'immondizia in una via adiacente molto meno dei famosi cento passi del film sulla vita di Peppino Impastato che denunciò quella mafia presente allora in Sicilia e motivo per cui il comune di Foggia è stato sciolto e assegnato ai tre commissari prefettizi che in quelle stanze soggiornano e decidono le sorti attuali della città probabilmente quegli uffici non affacciano su quella traversa altrimenti almeno lì qualche intervento da parte dell'AMI sarebbe stato richiesto anche perché quei cassonetti danno storicamente sempre quella visuale di degrado colpa di chi giornalmente quelle cose le getta con incuria e colpa anche di chi ha il compito di mantenere la città pulita le storie di degrado si moltiplicano di giorno in giorno basta fare un giro in città ma c'è chi per questo e per altri motivi comincia ad alzare la voce o meglio a mettere cartelli ben in vista nei luoghi di degrado come a Parco San Felice dove sono apparsi dei cartelli con la richiesta precisa alla commissaria prefettizia di svegliarsi e di abbattere quella recinzione metallica per lavori mai effettuati e che ora sono diventati punto di raccolta di rifiuti abbandonati una recinzione che andrebbe tolta dallo scorso febbraio quando fu annullata la determina di affidamento del campo sportivo ad un'associazione e maggiormente dal 22 aprile scorso quando ne fu ordinata specificamente la rimozione allo stato attuale ancora non avvenuta è chiaro che per il commissario Maria Elisa Magno ci sono tante cose da fare al Comune di Foggia ogni giorno ma queste sono delle priorità che vanno affrontate con estrema urgenza e adesso arriva il Presidente della Repubblica Mattarella e cosa facciamo vedere lo spettacolo che abbiamo visto nelle immagini naturalmente bisogna intervenire subito non si ferma Marco Pellegrini il senatore del Movimento 5 Stelle per la richiesta di istituire in provincia di Foggia una sezione di corte d'appello ha presentato la mozione e dunque l'iter continua sentiamo 19 ottobre è iniziato in commissione giustizia senato l'esame del mio disegno di legge che prevede l'istituzione a Foggia della sezione distaccata della corte d'appello della direzione distrettuale antimafia e del tribunale per i minorenni abbiamo chiesto al Presidente Stellari di effettuare le audizioni le effettueremo quindi nei prossimi giorni io chiederò di sentire innanzitutto il procuratore capo di Foggia il Dottor Lodovico Vaccaro ma contemporaneamente effettueremo anche le audizioni per un altro disegno di legge un disegno di legge delega al Governo per il riordino della geografia giudiziaria che ci interessa particolarmente perché prevede per i territori come il nostro in cui sono stati soppressi i tribunali come quello di Lucera la possibilità di riaprirne viste le caratteristiche del territorio noi ci crediamo tantissimo sia nella sezione di corte d'appello sia nel riordino della geografia giudiziaria e quindi speriamo che anche con l'aiuto del territorio della società civile possa presto vedere alla luce questo disegno di legge i due disegni di legge durante la pandemia è stata sospesa la riscossione da parte dell'agenzia delle entrate adesso si riprenderà il servizio con l'invio delle cartelle sulla ripresa delle procedure di pignoramento c'è una interrogazione dell'onorevole Nunzio Angiola parlamentare in quota ad azione e il partito di calenda prima di avviare azioni esecutive l'agenzia delle entrate dice Angiola deve notificare una intimazione a pagare entro cinque giorni se è decorso almeno un anno dalla notifica della cartella di pagamento visto che dall'8 marzo 2021 fino al 30 settembre le cartelle non potevano essere notificate si fa riferimento alle cartelle notificate in precedenza Angiola chiede se la moratoria delle attività di riscossione riguardasse anche la proroga del termine di un anno e avremo indicazione nei prossimi giorni adesso la pagina della politica in primo piano ancora la città di Cerignola perché si è votato domenica e lunedì ed è stato eletto il nuovo sindaco che è Francesco Bonito ha perso la competizione elettorale Franco Metta che al primo turno aveva ottenuto circa il 30% dei consensi dopo qualche giorno di silenzio Metta è tornato a parlare ha radunato il suo popolo e ha detto che la battaglia continua lo spirito è lo stesso quello del guerriero che non si arrende anche il tono è forte come quello della campagna elettorale tra le più infuocate della storia politica di Cerignola Franco Metta raduna il suo popolo parte dalla sconfitta senza trovare attenuanti signori abbiamo perso lo stesso sia chiaro questo è chiacchiere morte 10.000 e qua anda 4 gente noi dovevamo vincere e abbiamo perso altre questioni sono onanismi segmentali che uno si fa in casa la sconfitta quasi con onore conferma le scelte fatte i compromessi rispinti i voti non chiesti a Gianna Tempo Antonio Gianna Tempo ha pianto fino all'ultima sera che voleva incontrare il suo stronzo di Metta ha pianto mi trattate come un appestato sì perché io non gioco la mia coerenza il mio progetto il progetto che voi avete condiviso andandogli a comprare una persona Franco Metta continua con il suo movimento politico sarà l'ombra di Bonito io sarò il sindaco Ombra con me ci sarà il vice sindaco Ombra l'assessore ai servizi sociali Ombra l'assessore all'ambiente Ombra cioè noi avremo una squadra amministrativa parallela a quella ufficiale che si occuperà di tutte le questioni della città Cerignola avrà bisogno di noi e noi dobbiamo essere pronti non a fare la guerra all'amministrazione ma accompagnare la nostra città a sostenere la nostra città ricordiamo che tra poco in provincia di Foggia ci sarà un'altra tornata elettorale interesserà il comune di Manfredonia per eleggere il nuovo sindaco la città torna al voto il 7 novembre e dunque a Manfredonia siamo in piena campagna elettorale ce ne occuperemo giovedì prossimo nel corso del prossimo numero di senza maschera faremo anche l'analisi del momento politico adesso facciamo l'aggiornamento sul covid attenzione perché qui i numeri oggi li vediamo in aumento in tutta la regione Puglia ma anche in provincia di Foggia registrati nel bollettino di oggi 210 nuovi casi positivi al covid su 20.532 tamponi il picco stavolta si registra in provincia di Foggia con 60 nuovi positive risale di conseguenza il numero di persone attualmente positive 2160 resta bassa la pressione sul sistema ospedaliero ci sono 127 pazienti ricoverati per covid in tutti gli ospedali covid della Puglia e in area non critica 16 persone purtroppo sono in terapia intensiva arrivano gli aiuti del parco nazionale del Gargano per gli allevatori e gli agricoltori della zona l'ente ha stanziato contributi a fondo perduto per la salvaguardia della mucca podolica il fondo impegnato è di 40 mila euro per l'acquisto e l'introduzione in azienda di tori podolici selezionati precedentemente c'era stato un altro fondo di 30 mila euro per gli allevatori del Gargano che il 18 giugno avevano comprato torelli podolici in occasione della tradizionale asta che si svolge ogni anno a Laurenzana in provincia di Potenza nel 2020 sono stati stanziati e spesi 100 mila euro per il mantenimento in purezza delle vacche podoliche sono state 31 le aziende zootecniche che hanno beneficiato dei contributi per un totale di circa 900 capi allevati ancora un derby senza tifosi ospiti sugli spalti c'è stato il divieto per i tifosi del Foggia a Bari c'è il divieto per i tifosi del Taranto domenica prossima allo stadio Zaccheria il Foggia archiviata la notte magica del San Nicola è già proiettato alla gara di domenica con il Taranto allo Zaccheria terzo derby consecutivo in soli sette giorni dopo aver liquidato il monopoli in casa e imposto il pareggio alla capolista Bari i rossonieri preparano la sfida alla neopromossa Taranto del tecnico la terza la possibilità per Curcio e compagni di allungare ancora in classifica e fissare magari il vero obiettivo di questa stagione c'è entusiasmo dopo il pari di Bari che va stretto sicuramente agli uomini di Zeman per il gioco espresso in campo e il Boemo tiene tutti concentrati in vista di un altro impegno a cui il popolo rossonero tiene molto oggi allenamento sul sintetico della FIGIC di via Ascoli prima della rifinitura di domani mattina e la lista dei convocati per il match con gli onici Manuel Nicoletti tiene in ansia il Boemo dopo aver lasciato anzitempo il rettangolo di gioco a Bari lui che doveva recuperare per mercoledì ma che probabilmente ha affrettato i tempi del rientro già dalla gara col Monopoli la speranza che il riacutizzarsi del vecchio Malanno non allunghi i tempi di recupero chi non sarà sicuramente della gara è Andrea Di Grazia per il quale ci vorranno almeno tre settimane per tentare un rientro in gruppo Tony Marchic potrebbe tornare a disposizione già da domenica e identico discorso anche per Di Pasquale Maselli con quest'ultimo che se pronto potrebbe essere una valida alternativa nell'undici che andrà in campo con il Taranto in casa ionica la terza recupererà Riccardi che rientrerà dal turno di squalifica e che in estate pareva essere ad un passo dal vestire la maglia rossonera non dovrebbero essere della gara di Foggia gli infortunati Benassai Diabì Guastamacchia e Versienti che sono comunque sulla via del recupero dai rispettivi problemi fisici particolari attenzioni per le due punte rosso-blu Saraniti e Sant'Arpia che hanno deciso il derby di mercoledì con l'Andria arbitrerà Foggia Taranto il signor Mario Saia della sezione AIA di Palermo Altre notizie questa sera con la trasmissione solo Foggia in onda sulla nostra rete in prima serata anche il convitto Ruggero Bonghi di Lucera aderisce alla campagna della Lilt la Lega Italiana per la lotta ai tumori e la portale storico del convitto sarà illuminato di rosa la campagna nastro rosa prevede l'utilizzo del colore rosa perché questo è il simbolo della lotta contro il tumore al seno l'illuminazione della facciata storica del Bonghi a Lucera rimarrà accesa fino alla fine del mese di ottobre Rivediamo i titoli delle principali notizie che abbiamo trasmesso Sottratto il patrimonio 50 milioni di euro al re del vino l'imprenditore di Ravenna ritenuto vicino alla criminalità foggiana fu coinvolto nell'operazione Bacchus del 2012 Maxi sequestro di merce con marchi falsi sottratti 46 mila articoli ai commercianti capi in pelle calzature occhiali e bigiotteria tutto falso l'onore della sconfitta di Franco Metta Cerignola l'avvocato raduna il suo popolo e si proclama sindaco Umbra la battaglia continua rifiuti davanti al comune di Foggia discarica nel cuore della città scene sotto gli occhi dei commissari salvaguardia della mucca podolica contributi a fondo perduto del parco nazionale del Gargano prosegue l'azione di tutela dell'ente un altro derby domenica allo Zaccaria arriva il Taranto rossoneri chiamati alla continuità gara vietata ai tifosi ospiti vi ringrazio per la cortese attenzione vi ricordo anche la programmazione sulla nostra rete adesso c'è il telegiornale dei dilettanti con la conduzione di Antonio Villani subito dopo la replica di Chiaro di Luna con la conduzione di Michi De Finis ho già detto poco fa questa sera abbiamo solo Foggia e dunque le ultime notizie sul momento rosso-nero vi ringrazio ancora per l'ascolto vi auguro buona visione per noi di Di Vella le cose più buone sono quelle più semplici per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità sempre con grande rispetto per l'ambiente Di Vella passione mediterranea nel mondo auto di Carlo la città delle automobili la città delle automobili solo da Euronics dal 14 al 27 ottobre prezzi bassi troverai centinaia di prodotti a prezzi imbattibili e paghi tutto a tasso zero senza interessi e senza spese Euronics i negozi di elettronica italiana al 100% che sei una cosa più buona che è un'ambiente del 22 arlo di città delle automobili Grazie a tutti